A Roseto i tanto attesi lavori per la realizzazione del centro di raccolta rifiuti sono oramai fermi da diversi mesi. Questo perché il Comune in attesa dell'ok della Regione in merito alla richiesta di rimodulazione del progetto e del suo conseguente spostamento. Sulla localizzazione del centro di raccolta rifiuti del riuso in località Fonte dell'Olmo portato avanti dalla passata amministrazione, ricordiamoci ancora un ricorso pendente al TAR presentato da comitati cittadini e imprese. Inoltre l'amministrazione è sempre intenzionata a partecipare al bando sull'economia circolare per realizzare un polo tecnologico per la gestione dei rifiuti nella zona dell'autoporto. Stiamo lavorando su più piani, noi stiamo preparando un progetto innovativo sull'implementazione del servizio di raccolta rifiuti, del riuso di un centro di compostaggio di comunità e di servizi innovativi per far sì che i cittadini, soprattutto delle frazioni ma anche di Roseto Città, possano davvero non avere più disagi e far sì che quelli che oggi sono dei costi aggiuntivi alla collettività diventino delle opportunità. La zona pensata è quella dell'autoporto, proprio in prossimità dell'ecocentro che ci auguriamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi venga dissequestrato così da creare un servizio nel luogo che già quando ero consigliere di opposizione ritenevamo idoneo. Siamo presentando questo progetto, questo è il duplice progetto tramite i fondi PNRR per l'economia circolare e in parallelo stiamo lavorando con la Regione Abruzzo affinché per avere con l'assessore Campitelli gli uffici la neutralizzazione non facile ma neanche impossibile per lo spostamento, quindi la variazione del progetto in essere rispetto alla zona che si era pensata dall'amministrazione Ginobble di Girolamo con l'assessore Petrini che in maniera decisa, senza ascoltare nessuno e nulla era andata avanti, quindi nella zona sportiva. Quali possono essere le tempistiche? Siamo nelle prossime settimane, sicuramente avremo un prossimo incontro in Regione per quanto riguarda lo spostamento e quindi la variante progettuale. Ripeto, come ho detto ai cittadini, ai comitati, a tutti i portatori di interesse noi dobbiamo agire nel perimetro legale per non incorrere poi in sanzioni che sarebbero un danno oltre la beffa. Rispetto invece al PNRR siamo pronti a presentare il progetto e ci auguriamo che sia valutato in maniera ottimale.